Buongiorno, benvenuti a Omnibus, sono le 7.58, naturalmente ci occupiamo della manovra, della quarta manovra e già questo numero la dice lunga sulle difficoltà di gestazione, sulle difficoltà politiche, sulla storia di questa manovra. Oggi la stampa l'ha raffigurata con uno schema che poi cercheremo di mostrarvi perché il disegno, la rappresentazione di tutte le modifiche da giugno a oggi anche solo così a colpo d'occhio dà molto l'idea di quanto sia sofferto e di quanto sia problematico poi per tutti noi quali siano le ricadute, lo vedremo e ne parleremo con i nostri ospiti. Ieri c'è stata quest'ulteriore correzione, oggi si voterà la fiducia al Senato, c'è stato un pressing forte di Napolitano e anche del governatore di Banca Italia, Draghi, che fra poco poi traslocherà alla Banca Centrale Europea, ma vediamo subito quali sono i nostri ospiti prima appunto di sentirli su questi argomenti. Allora cominciamo, c'è Osvaldo Napoli del PDL che è anche rappresentante di punta dell'Associazione dei Comuni, quindi è anche molto ferrato sulle proteste degli enti locali rispetto alla manovra. Paolo Gentiloni del Partito Democratico, buongiorno. Maurizio Fugatti, chiedo scusa, della Lega Nord, deputato della Lega Nord, benvenuto. Mario Secchi che è il direttore del Tempo e Marcello Sorgi editorialista della Stampa, buongiorno. Allora io direi subito Napoli per forza di cose, ma questa... ho dimenticato, scusatemi, lo vedo adesso nel monitor, mi avevano detto che era leggermente in ritardo, invece c'è Tabacci dell'Udc, ci sente tutto a posto? Buongiorno. Per la verità la presentazione non è precisa. Non è precisa? No, sono di allenza per l'Italia. Oddio, mi scusi tanto, mi scusi tanto, è colpa dell'ora, è un lazzo... Non è un grave errore. No, no, è un errore, siete sempre... no, no, è un errore ed è il terzo polo, però insomma non siete assimilati, so benissimo, scusatemi, mi scuso con l'interessato, anche con i telespettatori. Allora, torniamo a Napoli. Napoli, questa quarta versione è quella buona o ci sono state nella notte altre modifiche, altre ce ne saranno? Io penso e credo che sia quella buona, ma devo anche aggiungere che credo che avrebbe dovuto essere già quella definitiva in precedenza, cioè il fatto di non aver inserito in precedenza una parte almeno di carattere sulle pensioni, di non aver inserito l'IVA, ecco, credo che sia stato un errore, perché non doverlo dire, credo che avremmo dovuto immediatamente pensare a queste soluzioni, ripeto, una settimana fa, senza dover andare avanti e indietro. Forse a questo punto i mercati avrebbero reagito diverso, anche se dobbiamo essere onesti che al di là delle critiche che posso fare, i mercati hanno reagito in termini globali europei, quindi quando i mercati sono scesi, non sono scesi soltanto in Italia, ma sono scesi in tutta Europa. È ovvio che c'è una situazione anomala che parte dagli Stati Uniti e arriva all'Europa stessa. Io credo che oggi i risultati dei mercati, alla base di quanto si è fatto, anche le risultanze che l'Europa ha detto ieri sera con alcune agenzie, alcune prese di posizione e anche le prese di posizione nella stessa Confindustria, questo oggi e ieri sera, danno, almeno si pensa che possono dare dei risultati positivi. Quindi credo che sia una manovra che dovevamo fare, che abbiamo fatto e auguriamoci che sia l'ultima. È ovvio che attendiamo oggi i responsi delle borse per capire quali sono i risultati rispetto ai numeri che abbiamo fatto. Ma perché è stato così difficile? Perché voglio dire, non è che sono venute fuori, delle misure così non annunciate o di cui non si era parlato. Per quale ragione scegliere, al di là del fatto dello stellicidio di misure, questa strategia del verificare come se non si volessero mai scoprire tutte le carte e tenersi sempre una carta di riserva, come mettere dei piccolissimi argini anziché fare la diga? Beh, guardi, io credo in tutti i casi che fanno bene tenersi una riserva. Io lo faccio anche dentro di me, la mia famiglia, una riserva è bene sempre tenerla per qualsiasi evenienza. Quindi da quel lato lì credo che non ci siano stati degli errori, tutt'altro. Anzi, la manovra è una manovra oggi che reputo importante e ben fatta. Quindi voglio dire, la verità è un'altra. Guardi, io credo che forze politiche di centrodestra e di centrosinistra hanno continuato a guardare il proprio prato verde, il proprio elettore. E quindi si sono difeso in alcuni momenti, alcuni punti della manovra, non vogliamo questo, non vogliamo l'altro. Io credo che sia finita. Oggi dobbiamo avere il coraggio di dire al cittadino che c'è necessità di sacrifici per fare delle riforme strutturali. Io aggiungo anche, oggi è il sistema Italia che bisogna rivedere completamente. E quando dico sistema Italia significa il welfare, significa le pensioni, significa i servizi pubblici locali, significa anche il costo della politica, non quello del parlamentare, che potremmo parlare di quanto perché poi è complessivo. Io credo che, e questo è il problema vero, c'è la forza della politica in un momento di crisi di dimostrare di fare delle riforme strutturali. Io credo anche che davanti a quello la gente lo capirebbe a condizione che vede un risultato finale. Se invece non vede il risultato finale, non vede la fine di questo, certamente le critiche arriverebbero e sarebbero anche giuste che arrivino. Lei sembra parlare in modo non proprio da esponente della maggioranza e anche annunciare che ci potranno essere altri aggiustamenti. Io non credo, io credo però che è giusto anche l'appello di Napolitano, è stato un appello direi importantissimo, anche dallo sveltire la procedura burocratica parlamentare altrettanto. Io non critico, anzi dico così, la critica è che dico che bisogna farlo prima, perché credo che alcuni passaggi, l'avessimo fatto subito, i mercati avrebbero reagito in maniera diversa. Quindi la mia critica, se critica è, è quella che abbiamo perso alcuni giorni. Questa critica la rivolgerebbe al suo collega della Lega, che è qui presente con noi, appunto Maurizio Fugatti. Il fatto che la Lega anche ha fatto una grande resistenza, la sta facendo ancora sulle pensioni, ha accettato però l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne, anche se procrastina. Ecco, se mi permette, il problema è vero, lo dico anche a lui, il problema è che è passato un messaggio in cui noi la politica aboliva le pensioni, non quello che invece allungava l'età pensionabile. Nella gente si è mandato un messaggio di questo genere, non siamo stati capaci noi, sono stati capaci qualcun altro a mandarlo. Questo è anche un passaggio estremamente delicato. Le pensioni, la Padania oggi mette proprio, stende quasi il silenzio su questo passaggio. C'è un imbarazzo della Lega o una convinzione a questo punto che è necessaria? La convinzione della Lega di tenere il punto sulle pensioni c'è e rimane. Quello che è stato deciso ieri è una questione che è stata anticipata al 2014, il pensionamento delle donne nel settore privato, però è una prospettiva di lungo periodo che andrà a regime nel 2000-2026. Quindi, tra tutte le richieste che venivano fatte sulle pensioni, introdurre subito i 40 anni, arrivare subito a delle misure molto più pesanti, questa è una prospettiva minima, infatti se leggiamo i giornali lo dicono tutti che questa è una prospettiva minima, coltetuto darà risultati dal 2014 in poi, quindi non darà risultati nel 2013 quando si sta lavorando per il pareggio di bilancio e quindi se uno vuole dire che oggi la Lega ha fatto marcia indietro sulle pensioni, questo ci sentiamo di dire che non è vero. Se dopo si vuole introdurre il dibattito sulle pensioni, si introduce il dibattito sulle pensioni, però noi abbiamo la nostra posizione che mi sembra sia stata specificata in modo molto chiaro durante tutta l'estate. Il fatto, a nostro modo di vedere, che la prima manovra prevedeva il contributo di solidarietà per i redditi sopra i 90 mila Euro, poi le questioni interne alla maggioranza hanno fatto sì che questo venisse tolto. Queste erano misure che noi preferivamo di più piuttosto che andare a toccare le pensioni. Però se oggi si vuole far passare il messaggio che con la decisione presa ieri la Lega ha fatto un martinetto sulle pensioni, fatelo pure passare, però questo non è vero e lo sanno benissimo gli addetti ai lavori. Infatti scrivono già oggi i giornali che in autunno ci sarà un forte avanzamento di coloro che chiedono una riforma pesante sul fronte pensionistico e lì ci misureremo. E lì come vi regolerete? Forse qualche segnale in questo senso di apertura della Lega potrebbe anche arrivare, visto che è una riforma importante, strutturale, richiesta anche dall'Europa, da Banca Italia. Noi crediamo sul campo pensionistico perché ce lo richiede Europa, ce lo richiede la Banca d'Italia, non è che dobbiamo non fare gli interessi dei lavoratori. Noi crediamo che sulle pensioni si debba tenere la posizione. Quello che è stato fatto ieri è un gesto di apertura all'interno di una situazione drammatica e difficile. Voi comunque non siete favorevoli all'innalzamento dell'età. Noi non siamo favorevoli all'innalzamento, poi ovviamente non sta certamente a me decidere quello che farà la Lega da qui a qualche settimana sul campo pensionistico, però noi ci teniamo arriva a dire che non abbiamo cambiato posizione rispetto a quanto abbiamo detto negli ultimi mesi. È chiaro che di fronte ad una manovra che tu la devi cambiare dalla mattina alla sera come si è fatto ieri dove qualcuno fa marcia indietro sull'IVA, qualcuno fa marcia indietro sulla tasse sul contributo di solidarietà che è stato portato da oltre 300 mila euro, è chiaro che una forza di governo deve anche assumersi le proprie responsabilità di forza di governo. E però invece sul resto la responsabilità di forza di governo su una cosa più complessiva non… Beh, insomma, lì è un discorso sul quale occorre appunto discutere. Noi abbiamo molti dubbi che questo sia una funzione realmente utile. Perché ci viene chiesta dalla BCE, perché ci viene chiesta dalla Banca d'Italia, francamente occorre andarlo a spiegare ai lavoratori che hanno cominciato a lavorare a 14 o 15 anni e che magari si sono spaccati la schiena per 35 anni che gli vogliono… Beh, di solito i lavori usuranti sono sempre salvaguardati, ma io vorrei far spiegare proprio a Tabacci dell'API, visto che proprio ieri Rutelli ha rilanciato nel suo discorso in Senato anche una… diciamo così, ha rivolto un appello, si è detto disponibile a dare i voti dell'API per l'appunto ad un'eventuale riforma complessiva delle pensioni di anzianità. Allora vorrei chiedere a lei Tabacci di spiegare perché invece, a vostro avviso, la riforma dell'età pensionabile è qualcosa di utile, insomma, e non contro i lavoratori, insomma, come stava dicendo prima Fugatti. Ma le ragioni sono molto semplici, sono legate al fatto che nell'arco degli ultimi 30 anni è stato un allungamento formidabile della vita media e che il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo è una necessità inderogabile se vogliamo tenere i conti della Previdenza in ordine. Ora, poiché l'Italia su questo punto spende sicuramente male una riforma di carattere complessiva, strutturale. Napoli finalmente ha usato questo termine, oggi l'ho sentito in buona forma, anche con una certa efficacia. Vede l'onorevole Napoli, il problema è però di questa crisi, lo si può dipingere così. Berlusconi aveva spiegato che noi eravamo i più bravi e che saremmo usciti fuori dal tunnel prima di tutti gli altri e meglio degli altri. E a guidare l'economia italiana c'era un genio, Tremonti. Ora, la figuraccia che stiamo facendo, voglio dire, non è neanche definibile. Una quarta manovra, un gioco che ha attraversato tutta l'estate. E secondo voi i mercati si assestano perché in zona Cesarini, direbbero gli sportivi, ne abbiamo fatta una giusta, nel senso che abbiamo cominciato a mettere i numeri in riga perché prima non vi era neanche la sicurezza dei saldi. Ora, con l'aumento dell'IVA, certamente entrate certe ci saranno, per quelli che non dovevano mettere le mani nelle tasche degli italiani. Io faccio una critica molto, molto rigorosa. Se in questi anni avessimo parlato il linguaggio della verità, sarebbe stato molto meglio. Invece di aver continuato a dire un cumulo di bugie, abbiamo finito per diventare l'anello debole. E vorrei dire a Fugatti che la BCE non è una cosa che sta sulla luna. Noi abbiamo in tasca l'euro. Credo che convenga tenercelo all'euro. O vogliamo tornare indietro? E l'euro cammina con le gambe del marco, non con le gambe della lira. Cioè di una moneta che ha una sua stabilità e che tende a rivalutarsi. Il che impone di fare delle riforme strutturali. Lo sapevamo. Ma forse immaginiamo di affrontare una temperia internazionale come quella che è con una moneta che si svaluta a comando e che taglieggia la capacità di acquisto. Non è possibile. Comunque indietro non si può tornare. Però senza le parole di ieri del governatore Draghi e il richiamo della Merkel, non che la Merkel non abbia problemi, ma quando dice che gli anelli deboli sono la Grecia e l'Italia, ci deve far riflettere il punto. D'altro canto, ed ho concluso, in Europa ci si sta, se si vuole tenere la moneta in tasca, ci si sta e ci si assume le responsabilità. Il che vuol dire che anche le politiche fiscali debbono essere armonizzate. Non si può rivendicare autonomia nelle decisioni e pensare che i debiti li pagano gli altri. Vedete, il problema dell'eurobond è esattamente questo. L'eurobond è una felice intuizione. Ma chi garantisce gli eurobond? Una istituzione forte e un paese come l'Italia, che è a rischio, deve dare il contributo come gli altri e quindi accettare che si facciano indagini penetranti sulla stabilità dei suoi conti e fare riforme strutturali, cose che in questi anni abbiamo evitato di fare. Quindi l'onorevole Napoli ha detto che è stata fatta in ritardo, ma certamente oggi il governo ha davanti una lunga strada di riforme strutturali. Non so se questo governo sia in grado di farlo, mi credo che sia molto logorato. Però il problema è questo. Arriviamo anche al tema del logoramento del governo, naturalmente. Però vuoi sentire da gentiloni, perché il Partito Democratico ha avuto un atteggiamento analogo di chiusura su una riforma, non ha dato nessuna disponibilità di dialogo sulla riforma delle pensioni di anzianità, fino a quando nelle ultime ore, ieri c'è stata una dichiarazione di Bersani un po' più possibilista e un irresponsabile economico del Partito Democratico, Fassina, ieri ha fatto capire che comunque intanto si chiuda questa manovra, poi dopo forse si può parlare e sembrava aprire la strada di un confronto su questo tema. Siete un po' diversi dall'Alleanza per l'Italia. Io non credo che da parte nostra ci sia un atteggiamento di chiusura rigida. Senz'altro non c'è da parte mia, perché le argomentazioni che spingono nella direzione di cui parlava adesso Bruno Tabacci sono assolutamente incontestabili. Bisogna dire che il Partito Democratico in queste settimane non ha toccato palla dal punto di vista degli aggiustamenti di questa manovra. Ognuno si prenda con chiarezza le proprie responsabilità. Siamo alla quarta, quinta versione di questa manovra, ma non perché c'è stata una dialettica parlamentare, la maggioranza, l'opposizione, quello ha intervenuto, ha cambiato, eccetera. Noi, i vertici del maggior partito di opposizione, non abbiamo per molte settimane neanche ricevuto una telefonata da parte del governo, del ministro dell'economia, per spiegarci quali fossero gli intendimenti del governo. Quindi diciamo le cose come stanno. La crisi più grave è esplosa ormai un mese fa. È passato un mese nel quale la dialettica e le tensioni tra Tremonti e Berlusconi, tra la Lega e il PDL, all'interno della Lega, eccetera, eccetera, hanno prodotto i risultati che abbiamo visto in questo mese. Ieri sera, l'altra sera alle 21.30, cosa abbastanza inusitata, c'è stata una dichiarazione del Presidente della Repubblica che ha messo il dito sulla piaga, ha richiamato l'attenzione sul fatto, con un linguaggio istituzionale, io non lo voglio tradurre, ma io l'ho interpretata così, che i saldi di questa manovra stavano saltando per aria, perché togliendo di qua, togliendo di là, contentando quello, contentando questo, non funzionavano più. E ieri il governo ha provato a mettere la toppa di cui stiamo parlando. Ora, io lo dico dall'opposizione, nel senso che per quanto sia stato fatto un guazzabuglio incredibile in queste settimane, quasi sembrava una gara a rendere meno credibile e affidabile il nostro Paese, nonostante questo io mi auguro che la toppa messa ieri funzioni, di almeno per qualche giorno, un minimo di tranquillità e di fiducia sul piano internazionale. Sappiamo che domani c'è una riunione molto importante del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, sappiamo che la situazione in questo mese è andata avanti anche perché la Banca Centrale Europea ha acquistato qualcosa come 35-40 miliardi di titoli di Stato italiani, quindi questa è la situazione in cui siamo, in cui addirittura noi dell'opposizione che riteniamo questa manovra pessima, che potremmo veramente insistere, pensiamo alle pensioni, si è detto non si toccano le pensioni, poi si è fatta una proposta che toccava le pensioni dal punto di vista della ricongiunzione della laurea del servizio militare, poi si è tolta questa e si è tornati ieri sulla cosa, veramente sembrano le comiche. Ora, in questo contesto, ciò nonostante, e nonostante gli aspetti evidenti di ingiustizia, perché vendere il prelievo sui redditi, non sui patrimoni, sopra i 300 mila euro, come una cosa, tra virgolette, che chiede di più ai ricchi, è ovviamente una presa in giro quando in questo paese, ormai da mesi, si comincia a ragionare, e giustamente, su prelievi di tipo patrimoniale, sulle grandi ricchezze. Quindi non ci piace il guazzabuglio di queste settimane e non ci piacciono i risultati. Al Senato però siete scesi in piazza. Ieri mattina noi avevamo garantito tranquillamente al Senato, poi la riunione dei capigruppo è slittata, ma lo sanno anche i bambini, che la discussione si sarebbe conclusa tranquillamente per senso di responsabilità in tempi rapidissimi. Il governo ha messo la fiducia per proprie ragioni, non c'entra niente il rapporto con l'opposizione. Quindi, manovra pessima, figuraccia di un mese dell'Italia con gli occhi di tutto il mondo addosso, ciò nonostante, io mi auguro che le decisioni, le toppe messe ieri funzionino. Che funzionino, che la BCE, quindi non è vero, poi vedremo se qualcuno vi ha accusato invece di puntare. Però poi vorrei che se ne traessero le conseguenze sul piano politico, cioè questo governo non ce la fa più andare avanti. Adesso poi arriviamo anche a questo, io mi devo scusare. Quando dice che il governo deve cambiare. Mi devo scusare con Sechi e con Marcello Sorgi, devo dare la pubblicità, poi rientriamo subito dopo con loro, naturalmente, a tra pochissimo. Rieccoci a Omnibus. Allora volevo chiedere subito a Marcello Sorgi di commentare lo stato dell'arte, queste continue modifiche, la quarta versione, chiedevamo prima se era l'ultima o se serviranno ulteriori aggiustamenti e che cosa naturalmente questo significa in chiave politica. Una delle cose che mi ha sorpreso in questa estate di crisi, di sbalzi, di mercati è che l'Italia sembra diventata un paese di economisti. mi sorprende la rapidità con cui una volta si diceva che era un paese di allenatori della nazionale, non aveva la formazione giusta, la ricetta giusta per vincere i campionati del mondo. Oggi tutti parlano di spread, di bolla, di euro, di marco e ne parlano anche spesso a sproposito perché poi sono materie che richiedono una certa competenza. Mi riferisco ovviamente soprattutto alla nostra classe politica in cui tutte le sere, tutti i giorni intervengono su questa materia. Io vorrei per un momento accantonare la parte tecnica sulla quale confesso di non essere molto competente e andare alla sostanza politica. La sostanza politica di questa tempesta, che secondo me ha ragione Napoli, ha investito tutta l'Europa, per non dire tutto l'Occidente, la sostanza politica è che questa tempesta ha messo in discussione gli equilibri politici di molti paesi. Prendiamo la Spagna, che era il paese più malato di tutti, sembrava moribondo, a un certo punto il primo ministro ha chiesto le elezioni anticipate, ha annunciato che non si ricandiderà, ha messo la posta in gioco, ha detto che noi non siamo in grado, si voti, chi vince veda cosa è la tensione dei mercati nel caso della Spagna si è subito allentata. In Francia Sarkozy è già in fase elettorale, quindi non avrà neanche bisogno di dirlo. In Germania abbiamo visto la Merkel come ne sta pagando le conseguenze nelle elezioni locali, gli indugi della Merkel, le resistenze della Merkel si traducono in perdita di credibilità presso il suo elettorato. Andiamo all'Italia. In Italia cos'era successo? Il giorno prima che cominciasse la crisi dei mercati, il centrodestra aveva perso le pressioni, aveva accusato una sconfitta nei referendum, seppure mascherandola e il risultato di questo era stata la diffusione del messaggio che questo era l'ultimo giro di Berlusconi, che era stato nominato un segretario giovane del PDL che nei fatti era il delfino designato e si andava in una prospettiva di cambio. Il centrodestra si proponeva per continuare a governare il paese ma con una nuova leadership. Scoppia la crisi e succede il contrario. Berlusconi naturalmente non mette neanche in dubbio la possibilità che possa dipendere dalla guida del paese, cosa che invece i mercati, i tecnici non dicono altro. Alfano addirittura dice che Berlusconi sarà candidato nel 2013 e da parte della Lega vengono delle resistenze. Quindi io credo che la domanda che dobbiamo farci è quale sarà la vera conseguenza politica di tutto questo. Onorevole Napoli, secondo lei questa crisi porta a un rafforzamento di Berlusconi o accedere una successione di Berlusconi e la Lega, per quale ragione appena Alfano ha detto che Berlusconi si ricandiderà ha subito detto no, 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 per carità noi guardiamo ai prossimi sei mesi. Io credo che sia prematuro direttore parlare di quello che sarà alla fine perché se le cose vanno in un certo senso... Quindi è d'accordo con la Lega? No, andiamo a votare nel 2013. Con Berlusconi? Beh, con Berlusconi non ci sono dubbi, io credo però, non ho paura di dirlo perché io credo che Berlusconi oggi poter annunciare che Berlusconi possa essere il candidato non sia un peccato, credo però che alla luce di tante prospettive, di situazioni che non sono colpa di Berlusconi perché la situazione, io devo dire a Tabacci e anche a Gentiloni prima, la situazione, lei l'ha ripetuto, se fosse colpa di Berlusconi in Europa non ci sarebbe il disastro che c'è, ma non soltanto in Europa, anche negli Stati Uniti. credo che quindi la decisione di Berlusconi di candidarsi o meno non dipenda soltanto da una situazione critica perché Zapatero si porta dietro una situazione diversa rispetto all'Italia, perché la crisi della Spagna nasce di gran lunga in precedenza rispetto a noi, Spagna, Portogallo, Irlanda, ecco Grecia, quindi e noi non siamo, si può dire di tutto, ma noi non siamo ancora nella situazione in cui erano questi paesi. quindi la decisione di Berlusconi di candidarsi o meno certamente in un quadro politico che deve cambiare. Sono io il primo a dirlo, io dico che l'area moderata del terzo polo, del centro, è necessaria in base ad un programma che noi dobbiamo presentarle, vedere di riuscire a recuperarla. Se siamo insieme nel PPE a Bruxelles, non vedo perché non dobbiamo essere insieme in Italia. E gli amici della Lega sotto questo aspetto devono capire che la politica è anche la ricerca di nuove alleanze. Non è possibile bloccare le nuove alleanze. Ma non trova che se Berlusconi avesse semplicemente confermato il messaggio che aveva dato l'indomani alle elezioni, dire beh, noi faremo il possibile ovviamente per affrontare la crisi economica, però badate che comunque stavamo preparando un cambiamento, cioè ci sarà un altro centrodestra, ci saranno altri leader. Se lui avesse solo confermato, perché questo messaggio lui lo aveva dato chiarissimamente a l'inizio di luglio, probabilmente le cose sarebbero cambiate. Nell'accanimento dei mercati c'è anche, secondo me, la conseguenza di dire guardate che io resto a qualsiasi costo. Questo è il passaggio che lei fa un passaggio dicendose, perché mi scusi, voglio sintetizzare, lei dice se Berlusconi fa un passo indietro i mercati è a quel punto lì perché... No, 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 io dico se Berlusconi conferma quello che aveva detto anziché cambiare rispetto a quello che aveva detto. Lui aveva detto che insomma oramai la successione era in corso. Ma io sono convinto che Berlusconi la pensi ancora così. Però ho detto il contrario. Io sono convinto però che la pensi ancora così. Che l'ha fatto dire soltanto per... L'ha fatto dire ad Alfano per dargli una mano in un momento di difficoltà. Berlusconi è un uomo intelligente, sa benissimo quando dovrà essere il momento di fare un passo indietro o di rimanere. Lo capisce, non è la sua storia, la sua vita personale da imprenditore, da politico le consente di capirlo. Dipenderà da una situazione, manca un anno e mezzo d'elezioni, lo vedremo. È un classico italiano, dicono il contrario di quello che pensano. Beh no, io non credo questo. Aspettiamo che la politica faccia il suo corso, direttore. Però la politica sta... adesso Sorgi aveva fatto una domanda anche a Fugatti. Sì, perché loro non mi pare che la pensano così. No, sulla permanenza di Berlusconi nel 2000... cioè sulla ricandidatura di Berlusconi c'è stata una grossa frenata da parte di Calderoli e di Berlusconi. Il 2013 ci pare abbastanza lontano oggi per poter fare delle previsioni su come sarà lo scenario politico. Prima sentivo l'onorevole Tabacci che dava del genio in modo ironico al ministro Tremonti. Ricordiamoci che fino a tre mesi fa, due mesi fa, se Berlusconi si fosse, per scelta sua di mezzo, il salvatore della situazione magari avrebbe avuto anche sicuramente anche da parte del PD. Ci sarebbe stata un'apertura su Tremonti Premier e anche magari da parte del Terzo Polo ci fu un'apertura. Adesso le cose sono cambiate. Quindi capiamo che la politica si muove su scenari molto fluidi. Quindi oggi fare delle previsioni su chi sarà il leader del PDL o del centro-destra nel 2013 ci pare anche difficile sotto certi aspetti. Dopodiché credo che si è parlato della Spagna e pare quasi che se si vuole fare passare il messaggio è che se non c'è più Berlusconi o c'è un altro la situazione in Italia potrebbe cambiare. La Spagna si è detto, si è fermato al momento la fase dura della speculazione. La Spagna ha un debito pubblico del 60%, circa. Ce l'arriva del 30% fino a due o tre anni fa, oggi ce l'arriva del 60%. Noi abbiamo un debito pubblico del 120%, che non è responsabilità di chi ha governato a prescindere dai colori politici, di chi ha governato negli ultimi 10-15 anni. Sappiamo benissimo di chi è la responsabilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che se anche il Paese si fermasse per un anno e pagasse tutto quello che incamera la propria ricchezza per pagare il proprio debito pubblico non sarebbe abbastanza. Quindi siamo di fronte a questo scenario per il nostro Paese. E questo scenario comporta di poter dire anche che noi facciamo questa manovra, ci assumiamo le responsabilità politiche che possono essere anche pesanti sotto certi aspetti. Perché qui abbiamo sentito dire che si perde di credibilità una manovra fatta velocemente. Noi stiamo facendo una manovra in cui nel giro di 10-15 giorni ci hanno detto dovete passare dal 3% e noi eravamo al 4% di rapporto deficit-pile allo 0%. Una cosa come 60-80 miliardi. 60-80 miliardi, tanto per far capire alla gente, sono due volte l'IRAP che paga lo Stato italiano. Cioè noi abbiamo dovuto in 10-15 giorni andare a trovare risorse per avere il pareggio di bilancio che ci viene richiesto dall'Europa per avere la, speriamo, la tranquillità sui mercati finanziari, anche se non sarà facile, nel giro di 10-15 giorni. Quindi credo che dall'esperienza che abbiamo visto anche dai governi di centro-sinistra tra il 2006 e il 2008, che non era una situazione di crisi come questo tipo, e ci ricordiamo benissimo quali erano le problematiche, le difficoltà che hanno avuto per fare le manovre pesanti che avevano fatto sul tempo col ministro Paolo Aschioppa, credo che una responsabilità così pesante e così anche difficile, questo governo se l'è presa. E non è una cosa di tutti i giorni fare una manovra di questo tipo in una settimana. Sapendo che questo è un paese che, avendo il 120% di debito pubblico, anche se questo paese, come abbiamo detto, pagasse tutto in un anno, sarebbe una situazione di difficoltà. Questo è lo scenario che gli italiani dobbiamo dire, perché altrimenti sembra che il 10% di contributi in solidarietà, le pensioni, l'IVA, eccetera... Eh, ma forse è mancato. La questione è molto, molto delicata e dobbiamo anche sopperlo dire. Però forse è proprio la parte che è mancata, anche il discorso che non è stato fatto e l'impressione che è stata data era quella che si potesse comunque, vabbè, aggiustare questa categoria, si lamenta, vabbè, allora accontentiamo, la togliamo, mettiamo... Anche questo, poi non è una settimana ormai... Adesso, negli ultimi giorni, l'Italia è arrivata sotto l'attacco speculativo in maniera pesante, questo è chiaro e questa situazione va gestita. Però non credo che ci sia stata una irresponsabilità, una mancanza di conoscenza della gravità della situazione. È chiaro che un primo ministro o un ministro della Lega non può andare in televisione e dire e siamo in una situazione gravissima perché il giorno dopo la borsa rischia di... Dobbiamo anche capire quali sono gli scenari e la consapevolezza del momento. Dunque, secondo lei non c'è un problema di credibilità. Io vorrei sentire, Sechi, su questo tema la credibilità e anche chiederti subito, e poi naturalmente ne parliamo con tutti quanti, oggi c'è un'intervista di Pisano a Repubblica e Pisano chiede, esce allo scoperto, come si dice il cavaliere faccia un passo indietro, la serve un governo di larga intese. Ed è lo stesso Pisano a dubitare che questo governo, questa maggioranza da sola, dice lui, non è più in grado di evitare il tracollo. Naturalmente è una domanda poi da rivolgere a Napoli, però vorrei anche sentire da te come si compone questo quadro, il tema della credibilità. Il tema della credibilità, dunque, per i mercati è fondamentale, va da sé, che però è articolato in tante cose, credibilità politica, credibilità di un sistema industriale e così via. Tra mezz'ora apre la borsa, vediamo un po' che succede, no? Naturalmente i mercati comprano e vendono, non votano, vorrei sempre ricordare questo piccolo particolare. Ma è chiaro che la giornata di borsa di oggi e dei prossimi giorni può darci delle indicazioni. In realtà io penso che noi siamo il mosaico, cioè siamo la tessera di un mosaico molto più grande, e quindi anche quello che è stato fatto sulla manovra ha un'influenza relativa. Meglio che sia stato fatto, è stato fatto male con una strategia di stop and go, ci si è fermati, l'abbiamo rivista, poi l'abbiamo rifatta, versione 2, versione 3, versione 4, non va bene ovviamente tutto questo. Ho delle perplessità sul messaggio che si dà sulla questione del super prelievo, perché chi dichiara quei redditi ha già pagato tutte le tasse, evidentemente, non è un evasore, e vorrei ricordare che noi siamo il terzo paese del mondo per pressione fiscale, solo che non abbiamo i servizi di chi ci precede, la Svezia tanto per dirne uno, e dunque, insomma, non sono convinto di questa cosa, in più riguarda 10.000-11.000 contribuenti soltanto, alla fine. Oggi nel tuo editoriale dici che era meglio la patrimoniale? Beh, a quel punto è meglio la patrimoniale, la patrimoniale è la più equa, perché nella patrimoniale ci sono i cespiti veri, Tabacci sa di cosa parlo, ci sono i beni. Condivido. Voglio dire, è una questione di buon senso, io non sono certo ricco, ma sto nell'1,5% di italiani che dichiari i 200.000 euro, fa ridere, non ho una barca, non ho una macchia, io ho la Panda, mi segue, non ho il SUV, la Porsche e così via, sono un contribuente onesto, che improvvisamente viene preso dal governo e tassato ulteriormente, non mi pare francamente una gran cosa. Per la patria facciamo tutto, però non prendeteci per gente che alza la me negli occhi, perché non è così. Ma detto questo, la cosa secondo me di cui dobbiamo tener conto è l'eccezionalità del momento, e Gentiloni ha fatto un discorso corretto, e lo stesso Napoli anche, cioè non dobbiamo guardare troppo per il sottile. A me quel super prelievo non piace, perché sono un liberale e così via, però dico, vabbè, se serve a calmare i mercati, ma soprattutto più che i mercati mettere con l'ABC a un punto fermo, perché quello è il vero problema in questo momento, allora va bene tutto. Va bene anche questo, non è bello da vedere, ma va bene. Berlusconi ha fatto il possibile, che se ne dica. Perché? Perché, caro Fugatti, nella Lega siete spaccati su tutto, ci sono un paio di posizioni almeno, c'è la posizione dei Maroniani, c'è la posizione dei Bossiani, c'è Calderoli che fa alcune cose, c'è Tremonti che tra la Lega e il PDL ne fa altre, ne pensa altre, e io capisco, questa è la dinamica normale dei partiti, ma è chiaro che il Presidente del Consiglio si è trovato in mezzo a questa situazione. Poi, vorrei ricordare, anche nel PDL ci sono tensioni, culture politiche diverse, c'erano i fraudisti che volevano una cosa un po' più liberale, ci sono quelli che vengono invece dalla, diciamo così, i socialisti riformisti, che ne so, Maurizio Secconi per esempio, un bravo componente del governo, che la pensa diversamente su altri. Non era facile trovare una sintesi. La borsa, il vero problema è la borsa, e l'altro problema è la vita, facendo una battuta. La borsa non si calmerà. Questa è la mia previsione. Non si calmerà nelle prossime settimane, perché l'Italia ha fatto una manovra più o meno efficace. E anche questa è un'illusione della stessa BCE. I mercati agiscono indipendentemente da quelle che sono le dinamiche dei conti in questo momento. C'è una fortissima speculazione in corso. Stavo guardando dei dati, sono terrificanti. Il JP Morgan Global Index, che è un indice molto interessante sulla fiducia di tutti i mercati, beh, è fermo. È stato diffuso ieri. I paesi emergenti stanno andando male. Se guardiamo gli ultimi due anni di crescita della ricchezza mondiale, noi siamo stati trascinati dai cosiddetti paesi emergenti. Se si fermano quelli, siamo fritti. Perché l'Occidente è cresciuto pochissimo. Però non hai l'impressione che delle volte questo allargare la questione, come è corretto fare, al contesto, fare una questione di contesto, l'Italia parte di un contesto. Non deve essere un alibi. Spesso, ecco, che venga, perché è un po' l'argomento che viene utilizzato, lo dico all'Onorevole Napoli, Sì, la maggioranza non deve usarlo come alibi per non fare le riforme. Sono d'accordo. Allora riguarda tutti e quindi, e soprattutto, se è speculazione, ma intanto c'è una parte di speculazione, poi se c'è il problema di convincere la Banca Centrale Europea a comprare i nostri titoli, sono d'accordo. lì invece, che una misura sia un tipo di misura, qui, anche credo che Tabacci sia, insomma, l'aspetto strutturale delle misure è fondamentale. Sono d'accordissimo. La qualità, ecco, non c'è un problema di qualità. La tua annotazione è corretta, perché è chiaro che non si può usare lo scenario globale per dire, eh, ma funziona così in tutto il mondo, allora non facciamo niente. No. Aggiungo di più, ci sono delle cose buone che se vengono confermate nella pratica, per esempio, la lotta all'evasione, ci sono alcuni provvedimenti un po', anche qui, poco liberali, se volete, però l'idea che finalmente io posso incrociare il redditometro, lo spesometro e il conto corrente bancario di un contribuente, beh, micidiale, perché nel momento in cui c'è una simmetria tra stile di vita, quindi spesometro, redditometro, quanto dichiarato, e conto corrente bancario, e tu mi devi spiegare come fai ad avere una vita da 15.000 euro al mese, 20.000 euro di reddito dichiarato e 500.000 euro in banca. Caro ragazzo mio, sei un evasore, ti faccio l'accertamento. quindi non è che ha una grande credibilità. Sono arrivati al punto, però, tabaccio, per 20.000 euro, 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 però, la conclusione è che c'è un paradosso in tutto questo, che la crisi, e anche se volete una disordinata scrittura della manovra, costringerà questo esecutivo a fare una lotta all'evasione, probabilmente come non si è mai vista, almeno io lo auspico, vi dico la verità, e laddove emergerà appunto una simmetria tra questi dati, che cosa succederà? La cosa interessante è che l'accertamento sarà di fatto automatico, è l'onere della prova sostanzialmente invertito, cioè con quei numeri sarei tu contribuente a dovermi dimostrare da dove è che prendi i soldi. Ora, dal punto di vista poi culturale, bisogna vedere quanto pagherà questo in termini elettorali per il centro-destra, perché questo è un paese dove la dichiarazione media sono 25.000 euro l'anno, insomma qua l'evasione è un fenomeno di costume enorme. Sì, certo, e anche se poi ritorniamo, allora non mi hai risposto sul tema del governo e dell'uscita di Pisano, no, no, scusa, te lo dico subito, non ci credo, non va bene, io penso ai governi politici, non ai governi tecnici, e io credo che la bussola su questa cosa qua debba essere quello che dice il presidente napoletano. Ma è il segnale che una parte di PDL potrebbe... E Pisano non è più nel PDL. Basta, va bene, liquidato così, ok. No, io sinceramente invece non lo liquiderei così, ma non tanto per la idea di Pisano che rispetto e che comunque è un'idea che circola da molto tempo. La domanda, secondo me, che ci dobbiamo porre, una volta detto che da italiano, ma anche da esponente dell'opposizione, io, ripeto, mi auguro che per quanto scombicchierata e quel che volete, alla fine questa manovra riesca, almeno momentaneamente, a placare la situazione. Però io credo che ci sia un punto politico dal quale è difficile uscire. Che cosa mi convince molto dell'intervista che fa oggi Beppe Pisano? Pisano dice allarghiamo la maggioranza, sostanzialmente dice governo di unità nazionale, nazionale, senza Berlusconi. Nella sua vita. E dice, una cosa su cui secondo me dobbiamo riflettere, e cioè prendiamo questa decisione prima che a questa decisione si arrivi sull'onda di un'emergenza irrefrenabile dal punto di vista dei mercati. Cioè lui dice noi potremmo arrivare tra qualche settimana a prendere una decisione di questo genere per motivi di salute pubblica. cioè lo spread eccetera eccetera. Allora, io dico questo, a mio parere è evidente che il problema della credibilità di questo paese che ovviamente si compone di tante cose, la salute del sistema industriale, la ricchezza delle famiglie, il debito pubblico eccetera eccetera, comunque non può prescindere da un cambiamento politico. Il cambiamento politico oggi a mio parere richiede vedo Napoli che scuote la testa e prende appunti perché dobbiamo devo interrompere richiede un governo di emergenza per affrontare una situazione di emergenza. Questo è chiarissimo io però devo veramente dare. Poi faremo elezioni e noi dell'opposizione siamo interessatissimi a che si arrivi presto ad elezioni ma oggi non è questo governo in grado di trearci fuori da questa emergenza. la pubblicità ci rivediamo subito dopo. Sono le 8.53 bentornati a Omnibus io volevo chiedere subito a Napoli questa appunto questa sortita di Pisano perché in effetti non è un anche se sei chi ha liquidato prima la cosa vabbè non è del PDL però è del PDL un membro un ex ministro del PDL senatore la figura di peso dice che mi sembra che il passaggio centrale sia che questo governo e questa maggioranza non è più in grado di evitare il tracollo e riaprire la via dello sviluppo quindi il suo appello a un governo o altro è particolarmente forte potrebbe anche segnalare un malcontento nei confronti della gestione della crisi. Ascoli massimo rispetto per quanto riguarda la persona di Pisano che è ovvio che nell'ambito della politica italiana ha rappresentato e rappresenta certamente una figura di rilievo ed estremamente personaggio moderato però sotto un certo aspetto non posso non dar torto a sé chi c'è cosa rappresenta nell'ottica globale del PDL quanto ne rappresenta qual è e attenzione attenzione io sentivo quando dice governo di salute pubblica beh io devo dire basta sentire le parole di Napolitano una settimana fa Napolitano dice fin quando esiste una maggioranza all'interno del Parlamento quella maggioranza deve governare il momento in cui non ci sarà più quella maggioranza potrebbe io potrò intervenire per vedere se ci sono delle situazioni diverse e un possibile governo diverso questo è il succo che dice Napolitano perché poi attenzione infatti il problema lo devono risolvere le forze politiche però lo dico ma non è certamente Berlusconi quello irresponsabile tutt'altro ed aggiungo il cambiamento politico e ti chiedo scusa il cambiamento politico lo fa l'elettore lo fa le elezioni cioè non lo fa nessun altro eh però su questo Napolitano ha usato delle parole un po' diverse nel caso di crisi non ci sono dubbi ma attenzione intendo dire però in caso di crisi in una situazione di emergenza ma deve arrivare la crisi e la crisi arriva nel momento in cui mancano i numeri alla Camera o al Senato non può arrivare prima cioè Napoli lei sta dicendo che qualsiasi cosa accada quale che sia il giudizio dei mercati quali che sia l'Eberlusconi rimarrà là le chiedo scusa ma lei come fa mandare a casa una maggioranza che nel momento in cui si presenti in Parlamento davanti a una mozione di sfiducia continua a avere la fiducia del Parlamento beh io non riesco a capire come si possa pensare diversamente quindi voglio dire quando si parla di governo tecnico e il resto o tu crei cosa che io non desidero tre le condizioni politiche perché la maggioranza salta se no non può esserci invece devo aggiungere una cosa di cui non parliamo e di cui io sono preoccupato il fango che sta per arrivare che c'è su tutti i giornali su tutte le televisioni unite certamente la difficoltà economica di questo momento e quindi alle varie speculazioni il fango che arriva contro il Presidente del Consiglio si riferisce alle chieste su Tarantini e mi riferisco alle intercettazioni che nulla hanno a che fare sotto l'aspetto penale e la mia paura è che questo crescerà e che questo certamente non fa l'interesse del Paese oltretutto tenendo presente che nulla ha a che fare sotto l'aspetto penale e che quindi si voglia indebolire il Presidente del Consiglio per raggiungere quell'obiettivo ma ripeto io di questo ho timore perché queste intercettazioni che vanno sui giornali come se nulla fosse e nessuno dice nulla da dove arrivano come arrivano perché arrivano e riguardano la vita privata delle persone io ho paura ho paura perché chi le fa uscire probabilmente desidera muoio a Sansone con tutti i filistei non gliene importa nulla della situazione economica e di una manovra le interessa far fuori Berlusconi attraverso questo sistema questa è la verità di questo io ho timore Tabacci io vorrei sentire un suo giudizio su questa presa di posizione di Pisano e anche sulle prospettive so qual è la posizione del terzo polo ci sono stati sempre appelli a un governo altro di emergenza giudizi molto negativi su questo ma in questo caso le chiedo anche come analista oltre che come politico lei anche sulla base di questa intervista che insomma ha una sua rilevanza anche se la figura di Pisano è una figura particolare crede che ci siano le condizioni per un per un cambio dovuto a un'emergenza cioè che un'emergenza possa far o fare un passo indietro a Berlusconi però anche se Napoli lo esclude o comunque cambiare qualcosa nel quadro politico Napoli aveva escluso anche che si dovessero fare tutte queste manovre e quindi credo che la sua posizione può anche cambiare di fronte alla durezza delle vicende il senatore Pisano dice delle cose assolutamente sagge ragionevoli che sia dentro tanto o poco nella PDL non è decisivo perché è chiaro che la ipotesi a cui fa riferimento è quella che questo governo ci porti allo sfascio e siccome non ci siamo molto lontani e ha ragione secchi a dire che i mercati non si tranquillizzeranno perché c'è un problema di credibilità grande come una casa il premier è ricattato e ricattabile e questa non è una cosa buona non ha uguali in nessun'altra parte del mondo e non ci sono neanche precedenti in Italia di questa dimensione altro che vite private in queste condizioni è chiaro che dover affrontare una manovra di verità nei confronti degli italiani perché è vero che gli italiani sono molto più ricchi anche se in maniera diseguale nel rapporto al loro PIL otto volte quando i tedeschi ce l'hanno solo quattro volte e mi riferisco alla ricchezza al patrimonio al ricchezza immobiliare e ricchezza finanziaria il che giustifica un intervento sul punto specifico e il tema del sommerso è la dimostrazione che non si può sostenere un ciclo di sviluppo in modo così diciamo strumentale e che invece bisogna farlo in maniera trasparente ma tornando all'intervista di Pisano penso che sarebbe ragionevole che ci fosse un'assunzione di responsabilità ovviamente la strada è quella parlamentare io credo che anche se qualche volta hanno fatto credere che il governo era stato eletto direttamente dai cittadini credo che il governo goda della fiducia del Parlamento un Parlamento che diciamo in base ad una legge elettorale ha sfornato diciamo una rappresentanza di nominati più che di eletti ma non importa dal punto di vista costituzionale questo governo dispone della maggioranza però io mi chiedo le componenti di questa maggioranza si pongono il problema della qualità del governo a cui hanno dato la fiducia oppure parlamentarmente il problema non li riguarda cioè la Lega che dopo averci promesso che ci portava fuori dalla difficoltà ci sta portando lo sfascio perché Maroni voglio dire e i suoi deputati hanno dato prima delle vacanze anche un certo moto che sembrava preludesse ad una sorta di sterzata cosa vuol dire adesso che cosa è rientrato ha ragione Sorgi si era fatto intendere che si voleva cambiare in realtà adesso si dice no ma noi andiamo avanti con Berlusconi voi con Berlusconi non andate avanti il paese non va più avanti con Berlusconi questo è il problema che c'è se ce ne vogliamo se ne vogliamo prendere atto è meglio quindi Pisano è saggio forse conviene prendere atto prima che sia troppo tardi di questa cosa e non subirla sulla scorta di eventi che sono incontrollabili Fugatti Pisano sono penso tre anni poco dopo che è iniziato il governo che rilascia queste interviste a cadenza periodica e quindi chi prova a dare diciamo importanza a queste interviste porta anche un po' sfortuna perché tutto quello che ha detto nelle altre decine di interviste che ha rilasciato nei tempi passati non si è mai avverato quindi Pisano penso che autocandidi se stesso probabilmente ci prova ad alternanze di un paio di mesi ogni tanto quindi questo ci sembra chiaro dopodiché sulla questione che diceva l'onorevole Tabacci la Lega come si pone la Lega lo aveva detto su quel voto noi lo avevamo detto chiaramente noi avremmo votato a favore e questo era accaduto non era cambiato non era cambiato nulla e sulle questioni che riguardano Berlusconi Berlusconi valuterà lui il da farsi se dovesse arrivare una un accanimento che comunque c'è anche nei suoi confronti da parte delle proprie la Lega quello che è stato adesso è stato definito diciamo fango ma insomma non tutte le vicende giudiziarie che riguardano Berlusconi non sono tutte uguali naturalmente si è parlato anche di un fastidio della Lega di un problema con l'elettorato di un segnali di questo ci sono stati anche in posizioni parlamentari prese dalla Lega nei bar della Padania si è parlato spesso del fatto che il Parlamento ha votato che appunto il Presidente del Consiglio è rientervenuto per la nipote non so quanto tu giri i bar della Padania francamente Tabacci non mi sembri un frequentatore tipico dei bar della Padania per quanto ti conosciamo guardi che sono un po' più padano di lei no no beh fermiamo fermiamo la Padania lei riconosce la Padania guardi che lei ti ha sempre detto che la Padania non esiste no ha sempre detto che la Padania non esiste come entità statuale come aree attorno al po' c'è un momento padano di Tabacci non esiste proprio Tabacci ti chiedo scusa però una risposta a quello che tu hai detto prima cosa io mi hai scuso di non dover fare delle manovre secondo ti voglio dire questo tutti nominati anche tu mi pare che tu sei stominato dell'Udc poi sei passato all'Api quando ero nell'Udc non ero nominato onorevole Osvaldo lei non c'era ma io ero letto in Parlamento se lo ricordi questo ma anch'io anch'io sono stato nel 2001 eletto con Forza Italia con un sistema elettorale diverso erano nominati anche con il Mattarello Tabacci a me ti posso garantire che per quanto riguarda le elezioni io sono stato eletto nei collegi uninominali nel 2001 e sono stato eletto sindaco andando a prendere le preferenze allora voglio dire tutti nominati siamo tutti nominati non può apparire che tu non sei nominati come gli altri io chiedo soltanto che siamo tutti alla pari vabbè io vorrei sentire sorgere a questo punto intanto vorrei dire una cosa a proposito di Pisano non è tre anni sarà trent'anni trentacinque anni che Pisano sostiene questo perché Pisano era con Zaccagnini nella banda dei quattro ai tempi del governo di unità nazionale guidato da Andreotti 1976-79 non un secolo fa cinque sei secoli fa però fermiamoci anche nel gioco dei precedenti nel senso che quello che è rilevante è che Pisano non ha mai detto anzi è stata una figura piuttosto vogliamo dire prudente adesso ha un prestigio diverso è un ex ministro dell'interno è un riconosciuto di un'interno però insomma è così sono trent'anni trentacinque anni che lui pensa che il paese debba essere governato da tutti insieme ed è una legittima posizione però mi pare che in questo momento ha poche possibilità di realizzarsi nel senso che semmai sarebbe più interessante capire perché se uno lo chiede adesso in questo momento sotto la furia dei mercati all'indomani di una manovra la risposta sarà sicuramente no ma l'idea che veramente si possa arrivare al 2013 in queste condizioni è fuori dal mondo cioè nel senso che gli ultimi sei mesi sono stati drammatici cioè il numero di richiami che sono venuti dal Quirinale quasi uno alla settimana e chiaramente non penso che Napolitano lo faccia così per divertimento o per sport o perché riceve delle pressioni dall'esterno ma perché guarda la realtà con gli occhi con cui la guardano tutti quindi ci sono anche una serie di fattori di cui adesso non si tiene conto per esempio la raccolta di firme per il referendum no se ci fosse un altro referendum annunciato a primavera per esempio i sondaggi che vedono comunque l'opposizione sempre molto in crescita in questa cioè secondo me esiste la possibilità che invece che al 2013 si vada a votare nel 2012 no questa possibilità dire che la riforma elettorale non la fai certo certo che si vada a votare con questa legge nel 2012 e questa mi sembra la ragione per cui si torna a dire il candidato sarà Berlusconi perché siccome io come penso molti altri sono convinto che Berlusconi non abbia nessuna intenzione di farsi da parte che anche se c'è uscita un'intercettazione in cui lui dice che questo è un paese di merda e se ne va tra sei mesi cioè è uno sfogo notturno io lì penso che lui dice seriamente che è uno sfogo che gli è scappato è un arci italiano è una persona che in questo paese si trova benissimo c'è i suoi interessi c'è le sue aziende c'è la sua famiglia c'è il suo governo soprattutto è convinto che posto l'elettorato di fronte alla fatidica domanda preferite che rimanga io con tutti i miei mali o che tornino quelli lui è convinto che l'elettorato probabilmente risponderebbe rimanga lei questo io non sono sicuro io non sono sicuro è una domanda che volevo fare è quello che dice Tabacci perché vede nel centro-sinistra però possiamo dal PD al SEL all'Italia dei Valori a Grillo c'è per fare il 47% devono andare tutti i cegli i pendichi sono quelli e come si presentano attenzione io non faccio il sondaggista non lo so però diciamo il discorso di Berlusconi è che volete quelli oppure vi accontentate di come siamo mi interrompo per dire che è uscito adesso un flash dell'ANSA che la borsa di Milano ha aperto in forte rialzo e quindi insomma era da dire era doveroso dire vuol dire che allora speriamo che vada avanti così ma significa che la manovra sta avendo i suoi effetti quello che ha detto la BCE io consiglio strudenza però aspettiamo stasera aspettiamo anche aspettiamo anche la strep alle 9 e mezza alle 9 e mezza rischi però io credo che l'annuncio della BCE di ieri sera di vedere nella manovra un fatto positivo vede che è diventato anche lei un economista beh l'Europa quello che tu hai bene io credo era una nota di ambienti dell'Unione Europea anche la borsa di Prado l'Unione Europea in tutti i casi ha dato parere io credo che quello influisca torniamo bisogna sempre guardare il lato negativo non riesco a capire adesso non è che possiamo fare questa apertura commentare positivamente quello che c'è oggi assolutamente sì l'abbiamo detto per farlo comprensare nessuno vuole togliere l'ottimismo a Napoli io sono un ottimista quello è il marchio berlusconiano insomma la mia domanda è questa qui le elezioni anticipate sono veramente da escludere in una situazione di questo genere devono lasciare i presupposti politici l'ho detto prima se nascono i presupposti politici che esiste non esiste più la maggioranza direttore ci sono 30 deputati che vanno via e che dicono noi non appoggiamo più il governo Berlusconi secondo me può nascere no ma c'è un'altra possibilità che sia Berlusconi a pilotare la crisi la crisi verso le elezioni partendo dal fatto che il centrosinistra è forte nei sondaggi ma non ha ancora definito una leadership in grado di complesso non è Berlusconi non è Berlusconi che pilota mi scusi se le dico è Napolitano che pilota ecco chi le dice che Napolitano dica non si va a votare e io faccio un governo diverso e quindi non può essere il Presidente del Consiglio che pilota oggi con Napolitano lei non pilota giustamente perché Napolitano si prende le sue prerogative quindi io non credo che Berlusconi piloti adesso nessuno di noi vuole interpretare il Capo dello Stato ci mancherebbe però quello che ha detto il Capo dello Stato è che nel caso in cui ci fosse la crisi di governo esattamente come avvenne nel 2006 lui avrebbe il dovere di fare un tentativo non ha mica detto che fa un governo la domanda dell'ambasciatore romano era lei farà un governo tecnico e lui ha risposto io se c'è una crisi sono vincolato dalla Costituzione a fare un tentativo però da questo a dire che farà un governo tecnico secondo me ce ne corre non c'è dubbio io non credo che noi possiamo a parte che sarebbe scorretto dal punto di vista costituzionale affidare o chiedere al Presidente della Repubblica di risolvere questa questione a me poi sembra che il Partito Democratico e ormai sia anche Rosimindi voglio dire nelle ultime dichiarazioni sembra sempre tirare verso un governo di emergenza un passaggio tecnico io penso che sia giusto non elezioni sembrate anche voi preoccupati Allora mettiamola così a ragione Marcello Sorgi quando dice che questo governo arrivi al completamento della legislatura è molto molto improbabile per mille ragioni che e quindi ipotizza Sorgi è probabile è possibile che si vada a votare l'anno prossimo io dico però all'anno prossimo mancano nove mesi dieci mesi a nove mesi alle possibili elezioni anticipate questo governo è in grado di affrontare la situazione dei prossimi nove mesi questo governo con le sue tensioni interne con il presidente del consiglio nella condizione in cui è non perché c'è un complotto di magistrati o chissà che questo lo vedremo ma perché certamente la sua credibilità personale è incrinata quando c'è un presidente del consiglio che sta dentro un'indagine in cui si parla di signori che lo ricattavano poi vedremo come andrà avanti questa indagine è evidente che la sua figura il suo peso la sua autorevolezza è molto incrinata vogliamo parlare del ruolo che ha svolto l'Italia nella vicenda libica di questi mesi io personalmente come italiano sono stato colpito dal fatto che il dopo crisi in Libia venga gestito da due signori uno si chiama Sarkozy e l'altro Cameron l'Italia che è di gran lunga il paese partner più importante è al margine Berlusconi sta in un angolino di una foto di gruppo con 30 persone ha a che fare con la sua credibilità personale quindi il problema che io pongo nel mentre ripeto che mi auguro da italiano che la manovra venga approvata brutta pessima com'è in fretta e abbia dei risultati positivi il problema che mi pongo regge questo governo anche i prossimi nove mesi io credo di no e quindi penso che Pisano o non Pisano una soluzione di emergenza sia nell'interesse del paese poi giustamente Napoli dice ci vogliono i numeri in Parlamento io mi auguro che nella maggioranza qualcuno se ne renda conto prima che sia lo spread a mettercelo addosso a forza anche se le borse sono in rialzo no ma al di là di questo invece per quanto riguarda la posizione del PD è vero lei ha detto più volte anche nel corso della trasmissione noi la manovra va bene è brutta però insomma ci auguriamo che passi in fretta si faccia e così via però ieri il PD era in piazza il segretario del PD era in piazza uno sciopero ci sono state critiche su questa su questa partecipazione come se cozzasse con l'aspetto diciamo di responsabilità nel nel non fare ostruzionismo sì come lo sa diciamo a seguire la spaccatura del sindacato insomma anche il PD è sì come lei sa anche nel PD ci sono opinioni diverse la mia per esempio è è un'opinione diversa da quella di di chi come Bersani ovviamente rappresentando in quanto segretario il partito ha partecipato a questa manifestazione io la pensavo diversa nel senso che ho il massimo rispetto per la CGL come per le altre sindacati che peraltro hanno un'idea diversa dalla CGL che però fanno un altro mestiere i sindacati i sindacati divisi tra loro nel modo in cui farlo però fanno il mestiere di tutelare un pezzo della società e hanno anche tutte le loro ragioni per farlo perché certamente il lavoro dipendente i pensionati in questi anni sono stati trattati dal contesto italiano in un modo che grida vendetta da un certo punto di vista quindi figurarsi se io contesto al sindacato o nel modo che sceglie la CGL o nel modo che scelgono Cisle e Will di difendere quel segmento settore della società penso che un partito politico interclassista e grande come il PD non dovrebbe tanto arruolarsi in quel ruolo ma penso che dovrebbe più seguire l'input che ci viene dal Presidente della Repubblica cioè farci carico del problema economico nel suo complesso detto questo quando io dico mi auguro da italiano che questa manovra pessima tamponi quello che può tamponare non sto minimamente assolvendo questa manovra cioè il fatto che questa manovra ha le caratteristiche che ha e che non prende di petto tre o quattro questioni fondamentali dalla patrimoniale chiamiamola così di cui stiamo parlando un po' tutti alle liberalizzazioni alle privatizzazioni e che le poche cose che fa sono molto spesso indirizzate in modo ingiusto verso quella parte di lavoro dipendente che ha già pagato molto la crisi è assolutamente ovvio io vorrei chiedere a Tabacci quindi non confondiamo responsabilità nostra con corresponsabilità di una manovra rispetto alla quale ripeto l'opposizione non ha toccato palla io vorrei chiedere a Tabacci se però che so insomma immagino il giudizio sia critico nei confronti poi è arrivato appunto da diversi esponenti del terzo polo nei confronti dello sciopero però vorrei chiederle non crede che da parte del ministro Sacconi e del governo inserire questa questa questione dell'articolo 8 sia stato politicamente al di là del merito però politicamente forse qualcosa che non non andava fatto non in questi termini sì io penso che non era materia da inserire in questo provvedimento e soprattutto pur riconoscendo i ritardi del sindacato la linea del governo di dividerli e in particolare di isolare la CGL per iniziativa di Sacconi l'ho trovata assolutamente improvvida semplicemente questo l'articolo sull'articolo 8 la Lega non ha avuto nulla da dire noi abbiamo visto che c'è stata una spaccatura tra i sindacati che una parte del sindacato che comunque da sempre contrario questo governo è sceso in piazza in modo legittimo perché scioperare è un diritto e quindi chi lo ritiene di fare lo deve e lo può fare però è stato proclamato ancora prima che si conoscesse realmente gli aspetti generali e definitivi della manovra una parte di sindacato su questo provvedimento non si è manifestata contraria anzi qui il licenziamento ci può essere con l'approvazione del sindacato nel caso specifico quindi noi crediamo di non aver messo in discussione i diritti dei lavoratori vorrei chiedere ancora a Secchi anche a Sorgi telegraficamente se questa vicenda dell'articolo 8 alla fine non ha dato una mano al sindacato da che la Camusso era stata molto criticata per aver programmato questo sciopero se invece un argomento del genere visto che è vero che la CISL ha avuto delle posizioni critiche però comunque si è spaccata anche la CISL molte federazioni territoriali non hanno condiviso il giudizio di buona dal punto di vista tattico forse non l'avrei inserito nella manovra ma abbiamo avuto uno scambio di idee con Sacconi su questo invece lui sostiene che andava messa là il provvedimento secondo me va bene perché è in linea con quello che ci chiedeva la banca centrale europea e a giudicare però dall'adesione allo sciopero non è che la Camusso ne abbia tratto gran giovamento la fine dell'adesione allo sciopero è assai limitata è lo sciopero di una minoranza del paese bisogna dire la verità aggiungo di una minoranza che secondo me non ha capito le sfide che gli sta proponendo la contemporaneità e sorgi ma io penso che una mano alla Camusso l'ha data il governo con l'ultima versione della manovra includendo le pensioni perché ieri sera appena si è avuta notizia che tornavano le pensioni Will e CISL sono subito scattate quindi in realtà non credo che sia solo il merito certo l'articolo 8 per la CGL gioca un sacco anche se poi se uno va a vedere il testo si può licenziare con il consenso del sindacato cioè quello che praticamente avviene già perché quando si fanno le ristrutturazioni che cosa si fa? Si licenzia con il consenso si concorda con il sindacato un certo numero di persone che escono si trova il modo migliore per farle uscire ma si fa così quindi è un modo di codificare una cosa che avviene superare tutta la contrattazione nazionale però devo dare la pubblicità scusami e poi ci rivediamo subito dopo Rieccoci con l'ultimo blocco di Omnibus avevo interrotto Sorgi sul tema dello sciopero e dell'articolo 8 dicevo che secondo me al cambiamento di posizione di Cisle e Will ha contribuito molto di più l'arrivo della nuova versione della manovra che non l'articolo 8 che c'era già da prima cioè l'articolo 8 certo ha dato la CGL una ragione più evidente per convocare lo sciopero uno sciopero che però anche a sinistra è stato molto discusso non fosse altro perché proprio sul terreno dei licenziamenti delle trattative sulle uscite il mese prima la CGL aveva fatto un'apertura ai vertici della Fiat quindi diciamo non si è capito la posizione della CGL è cambiata due volte diciamo prima nel senso di un'apertura verso la contrattazione poi nel senso dello sciopero generale poi sono arrivate le pensioni il contributo tutto quello che è arrivato ieri pomeriggio allora anche la Cisle da Will non potevano fare altro credo che ci sia un problema di metodo oltre che di contenuto cioè i sindacati contestano il fatto che non c'è nessun tipo di concertazione in quello che fa il governo cioè non li informano non li chiamano quando li hanno chiamati non gli hanno detto niente il famoso documento delle parti sociali di fine luglio che poi provocò un tavolo ah sì quello firmato da tutti tutti uscirono delusi da quella concertazione perché il governo allora era ancora sulla posizione la crisi non c'è passerà è un raffreddore e quindi siccome quelli avevano fatto un documento per dire guardate che qui le cose si mettono male ne uscirono quello è stato l'ultimo momento di vera unità ora mi pare che ci sia anche una certa confusione all'interno del fronte sindacale a Napoli volevo chiederle invece se chiusa la manovra appunto un po' c'è oggi nei retroscena dei quotidiani si dovrebbe passare anche a fare altre cose c'è Banca Italia che spesso ha chiesto e appunto è tornato a chiedere un pacchetto di misure cioè la parte per la crescita sulla quale la manovra per giudizio comune è piuttosto carente lei è stato un sostenitore anche della necessità della riforma delle pensioni crede che dopo la manovra possano essere presi dei provvedimenti ad hoc appunto su liberalizzazione ed altro insomma non così diciamo se ha una ma io l'ho detto all'inizio della trasmissione ho detto che lei crede che appunto sia necessario però diciamo se c'è un lavoro già su questo punto confermo totalmente che fatto questa manovra che può servire a tranquillizzare io mi auguro per parecchio tempo ma per quello che è il tempo necessario i mercati il governo è tenuto a fare una manovra di riforme strutturali sono io il primo a dirlo ci sta lavorando ma non ci sono dubbi perché se il governo non fa delle riforme strutturali dopo la manovra a mio giudizio sbaglia e bisogna che tutti abbiano la capacità di fare un passo indietro e di non privilegiare il proprio prato verde del proprio elettore ma la coscienza che dopo di questo è necessario riforme se non si fanno le riforme non c'è nemmeno il problema di dire spingiamo la ripresa io l'ho detto prima il welfare le pensioni i servizi pubblici locali il costo della politica in senso generale liberalizzazioni cioè qua la classe politica al di là del colore centro-destra centro-sinistra si assume oggi delle responsabilità perché se non le fai oggi in un momento di crisi le riforme non le fai più e oltretutto ridico anche un'altra cosa se non l'ho detto prima il paese le capisce ma veramente non sembra gli avvocati sono già sul piede di guerra ieri hanno annunciato poche fiamme ma perché arriviamo che siamo un paese dove una categoria degli avvocati con tutto il rispetto come un'altra categoria difende il proprio prato verde senza capire quello che è della situazione globale ma il governo ha la forza se noi non ci assumiamo le responsabilità ma le singole categorie delle liberalizzazioni anche questo è un fallimento ma non della classe politica la classe politica limite gliele deve imporre e non deve aver paura delle proteste che avvengono facciamo solo un test un brevissimo test prendiamo le province no l'abolizione delle province è stata come dire cancellata quante sa tre quattro mesi fa con voto bipartisan di quelli alla Pisano insomma tutti insieme contro l'abolizione delle province adesso è notizia che il governo presenterà un progetto di legge costituzionale non più costituzionale quest'ult quella della seconda versione era quella delle funzioni era sempre costituzionale qui abbiamo esponenti di maggioranza dell'opposizione sappiamo già che la Lega è contraria all'abolizione delle province ma c'è un ripensamento in corso cioè gentiloni il PD questa volta voterà per l'abolizione delle province il PD secondo me ha riconosciuto di aver probabilmente fatto anche un errore con il voto che Sorgi ricordava e quindi sicuramente sarà a favore la Lega la Lega è la posizione da sempre molto chiara noi crediamo che la la cosiddetta abolizione delle province non comporterebbe quei risparmi che vengono oggi oggi detti perché comunque un dipendente provinciale non è che dipende dalla provincia non è che domani lo licenzi con la provincia o va in regione o va nei comuni che non lo sostituisci bisogna vederlo questo bisogna vederlo la funzione che va a fare perché se quella funzione c'è non è che quella funzione poi la vai ad eliminare la questione dei costi la versione di ieri è questa appunto non è costituzionale la questione dei costi invece si potrebbe affrontare dei costi della politica delle province ragionando e questa è una posizione che è anche portavanti dalla Lega ragionando sul taglio dei consiglieri provinciali razionalizzando questi aspetti ma io vorrevo un attimo spostarmi su quello che si diceva prima le riforme qual è il menu per la crescita noi crediamo che bacchette magiche non ce ne siano e oggi è bellissimo venire qua a dire liberalizzazioni privatizzazioni questa è la ricetta le pensioni la domanda era se le farete noi vorremmo far capire che questa non è non siamo di fronte ad una crisi da ciclo economico cioè solitamente le crisi e il ciclo economico si cresce poi si diminuisce poi si cresce siamo di fronte ad una crisi molto molto grave che non si sa realmente dove andrà a finire e quindi non c'è una bacchetta magica per dire facciamo così o facciamo qua il nostro paese è cresciuto nel 2010 dell'1.3% e a parte la Germania che è la locomotiva e va benissimo non sono tantissimi paesi in Europa che hanno fatto meglio di noi ma se noi prendiamo la crescita del nostro paese e la dividiamo in macro aree vedremo che c'è la parte del nord padana come l'ha chiamato prima tabaci che cresce quasi ai livelli tedeschi c'è una parte del centro che cresce dell'1.5% e c'è una parte del sud che non cresce quindi noi abbiamo un'economia su questo paese che è un'economia duale sotto certi aspetti una parte che ha i livelli europei e anche nella disoccupazione giovanile di cui si è discusso nei giorni scorsi se andiamo a vedere la disoccupazione giovanile nel nord la disoccupazione giovanile nel nord è ai livelli europei poi purtroppo c'è la questione quindi questo è un problema che deve essere affrontato il nostro paese è strutturato in un modo in cui è difficile fare riforme che da una parte vanno bene e dall'altra non vanno bene sulle liberalizzazioni noi abbiamo qualche dubbio che oggi sia mi riferisco soprattutto a quelle dei servizi pubblici locali che in questo momento sia conveniente che in questo momento arrivano a comprartela a costi a costi minimi quindi stiamo attenti perché adesso gli industriali la finanza internazionale le liberalizzazioni perché vogliono arrivare prendersi i gioielli dei nostri comuni dei nostri enti locali a costo zero o a poco costo per poi farsi i loro interessi privati quindi la liberalizzazione dei servizi è calcissimamente che con la scusa della crisi che con la scusa della crisi non svendiamo quel poco di buono che abbiamo nel nostro paese si possono abolire le province le municipalizzate degli altri ma non direttore se lei fa la riforma eliminazione delle province è obbligato a passare ad una riforma costituzionale se lei invece fa una riforma di razionalizzazione è sufficiente il Parlamento è la scelta che lei deve fare la stima più prudenziale che c'è sulla eliminazione delle province è di un risparmio di 2 miliardi di euro sia la Lega sembrano pochi e poi non è solo una questione di risparmio ma anche di dimensione istituzionale c'è un livello di governo di troppo quindi le cose vanno semplificate e la Lega ha detto che non ha la bacchetta magica ne prendiamo atto ce ne eravamo già accorti ci hanno proposto la patacca del federalismo e i comuni del Nord sono in grande difficoltà lo sanno benissimo Tabacci la Lega con il problema della svendita Napoli ma quale svendita ma se le metti sul mercato Tabacci oggi valgono che cosa se le metti sul mercato un'azienda pubblica va bene su questo devo proprio tagliare proprio lei ha appena parlato di riforma dei servizi pubblici adesso si smentisce se tu metti in vendita oggi un'azienda che valeva 100 è finito il dibattito voglio sfumare Tabacci ragazzi su appuntamento con Omnibus domani mattina arrivederci domani mattina domani mattina domani mattina domani mattina